Da come si legge su internet di oggi, sembra che il grande Michael Schumacher verrà trasferito a Mallorca, in Spagna, in una russuosa tenuta che la moglie dell'ex campione di Formula 1, di nome Corinne, avrebbe comperato ad Andrax a 20 minuti circa la palma di Mallorca. L'illustre, che è una rivista, ha anticipato tale notizia che sarebbe stata confermata al sindaco della cittadina delle famose Baleari. In buona sostanza, dunque, il grande Michael dovrebbe andare a trasferirsi in questa località che fa parte della Spagna, quindi parliamo della cosiddetta penisola iberica. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto del grande Schumacher, mi piace la bravura che ha dimostrato nel corso della sua pluriannale carriera e soprattutto l'immenso talento di cui è dotato. Grazie, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, datemi una vostra opinione, al prossimo video.